La Corte di Cassazione è nel tempo presente e questo il tema del convegno svoltosi presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino e organizzato dall'Aiga, associazione che raccoglie i giovani avvocati. Un incontro formativo moderato da Modestino Acone e introdotto da Raffaele Tecce che indica nel precedente giurisprudenziale il punto di partenza e di arrivo per gli avvocati. La nostra associazione è un'associazione nazionale che raccoglie i giovani avvocati e ha l'obiettivo di rendere un servizio ai giovani e anche a quelli meno giovani che si avvicinano alla professione e che quotidianamente riscontrano delle difficoltà che poi derivano dalle difficoltà generali della nostra società. Quindi noi siamo al servizio dell'avvocato provando anche a immaginare una formazione di qualità come quella di oggi. Il convegno di oggi infatti vede la partecipazione di tre luminari della procedura civile, vale a dire protopisani, verde e acone, che hanno segnato e segnano ancora la storia giuridica del nostro Paese. Perché questo tema? Perché siamo consapevoli che oggi al di là delle leggi il precedente giurisprudenziale rappresenta un punto di partenza ma anche un punto di arrivo per l'avvocato che giornalmente si trova ad affrontare i più disparati problemi e questioni geomitiche. Per cui è importante capire come questo precedente giurisprudenziale si pone nella professione di ciascuno di noi.